Buon pomeriggio da Sicilia 24, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio e notizia che apriamo parlando di cronaca, partiamo da Partinico, siamo quindi nel Palermitano dove i carabinieri hanno tratto in arresto due pastori che nascondevano la droga nella stalla, vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Grisì hanno tratto in arresto due uomini, un 65enne e un 37enne, pastori del luogo e già noti alle forze dell'ordine, i quali secondo l'ipotesi accusatoria sarebbero ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, che si colloca nell'ambito di una più ampia azione di contrasto in materia di stupefacenti svolta nelle aree periferiche e agricole del comune di Partinico, ha consentito ai militari dell'arma di rinvenire e sequestrare quasi due chili di infiorescenze di canapa ben occultate all'interno di una stalla adiacente l'abitazione degli indagati a Partinico. I carabinieri nel corso dell'attività hanno inoltre accertato, con l'ausilio di tecnici Enel intervenuti sul posto, un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica che consentiva di alimentare l'immobile. Per tale motivo i due sono stati denunciati anche per il reato di furto aggravato. La droga rinvenuta e sequestrata è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici. Gli uomini, su disposizione del pubblico ministero, sono stati posti agli arresti domiciliari fino alla celebrazione del rito di convalida. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha poi convalidato gli arresti. Gli indagati, da ulteriori riscontri, sono risultati essere percettori del reddito di cittadinanza e pertanto la loro posizione è stata segnalata all'Inps per l'eventuale revoca del beneficio. Restiamo in tema, parliamo ancora di spaccio di stupefacenti, ma ci spostiamo da Partinico a Catania dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto un giovane spacciatore, un diciottenne, durante dei controlli effettuati nel villaggio Sant'Agata. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, nell'ambito di un servizio dedicato al contrasto dei reati connessi allo smercio di droga nel villaggio Sant'Agata, hanno arrestato un diciottenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un 35enne pregiudicato per evasione entrambi catanesi. Nella circostanza i militari dell'arma, dopo aver predisposto un dispositivo di osservazione presso alcuni edifici della zona, hanno riconosciuto il classico andirivieni di persone che con atteggiamento guardigno e frettoloso entravano ed uscivano rapidamente da un palazzo, immediati quindi i controlli sui possibili acquirenti che effettivamente sono stati trovati in possesso di alcune dosi di crack. Avuta certezza che fosse in corso un'attività di spaccio, gli operanti sono quindi riusciti ad accodarsi ad uno dei consumatori e raggiungere l'abitazione incriminata, sentendo tuttavia al loro arrivo il rumore di acqua corrente e le grida di un uomo che dall'interno intimava l'acquirente di scappare poiché c'erano i carabinieri. Era quindi chiaro come il pusher si fosse in qualche modo accorto dell'arrivo dei militari e si stesse disfacendo dello stupefacente attraverso gli scarichi del bagno e del lavandino. Avuto finalmente accesso all'appartamento, i militari hanno quindi bloccato il soggetto, identificato poi per il 18enne, già noto alle forze dell'ordine, notando da subito un sistema di videosorveglianza perfettamente funzionante che riprendeva con varie inquadrature l'androne del palazzo e l'area sottostante ai portici, consentendo così di monitorare gli ingressi all'edificio. Sono quindi scattate le perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito di recuperare 345 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dello spaccio, nonché materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e le telecamere di videosorveglianza sono stati posti sotto sequestro. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto del 18enne che durante l'udienza ha chiesto il patteggiamento e ammesso le proprie responsabilità penali, venendo condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa. Nell'ambito della stessa operazione i carabinieri hanno altresì controllato un uomo, identificato poi per il 35enne che stava passeggiando lungo la strada prospicente lo stabile, accertando come lo stesso, sottoposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, ne avesse evidentemente violato le prescrizioni, allontanandosi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Ancora cronaca, ti spostiamo adesso a Pachino, nel Siracusano, dove i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 37enne di cittadinanza tunisina ma residente a Pachino in ottemperanza all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ufficio esecuzioni penali. L'uomo, che dovrà scontare un anno, nove mesi e sette giorni di reclusione per rapina, è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa. Torniamo adesso nel Catanese, a Belpasso, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un 25enne che aveva picchiato e tentato di strangolare la moglie semplicemente per questioni legate al conto corrente. I dettagli nel servizio. I carabinieri della stazione di Belpasso hanno tratto in arresto in flagranza per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia, un uomo di 25 anni responsabile del ferimento della moglie 35enne avvenuto al termine di una lite sorta per futili motivi all'interno dell'abitazione di famiglia a Belpasso. In particolare, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari dell'arma si sono portati immediatamente nei pressi dell'abitazione dei coniugi dove hanno bloccato il marito, in lacrime nella cameretta dei figli e soccorso la donna. Quest'ultima, in forte stato di shock e con evidenti lividi sul corpo, ha subito riferito che poco prima il coniuge, al culmine di un litigio nato per divergenze nella gestione del conto bancario cointestato, l'aveva segregata nella stanza da letto al buio e con le mani legate tentando prima di strangolarla e soffocarla con un pezzo di stoffa infilatola in bocca per non farle urlare, per poi picchiarla con un manico di scopa. La dinamica degli eventi è stata confermata anche da un passante e dalla madre della vittima, accorsi dopo aver sentito le grita d'aiuto della stessa che nel frattempo era riuscita a liberarsi e chiedere aiuto. I garabinieri hanno poi rassicurato anche i due figli minori della coppia presenti nell'appartamento durante la lite affidandoli alle cure della nonna materna. Una volta accalmatasi in caserma la donna ha quindi raccontato di ulteriori episodi di violenza e maltrattamenti subiti nel recente passato per i quali l'uomo è stato contestualmente denunciato. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza dove permane all'esito dell'udienza di convalida. La moglie invece è stata visitata dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Paternò che nel riscontrare ecchimosi ed escoriazioni l'hanno dimessa con una prognosi di 15 giorni. Due barchini con al bordo 79 migranti sono stati agganciati dalla motovedetta della Guardia di Finanza quasi all'ingresso del porto di Lampedusa. Entrambi i natanti partiti dalla Tunisia sono stati trainati fino a Molo Favarolo. Dal primo sono sbarcati in 37, fra cui 11 donne e 7 minori in fuga da Costa d'Avorio, Liberia, Mali e Senegal. Dal secondo barchino invece sono scesi in 42, fra cui 13 donne e 5 minori originari di Guinea, Camerun e Bangladesh. I due gruppi di migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove al momento ci sono 1112 ospiti, a fronte però di una struttura che può contenerne al massimo 350. Ieri a Lampedusa, con otto diversi sbarchi, sono giunti 357 migranti e sono 110 le persone che stanno lasciando l'hotspot di Contrada in Briacola a Lampedusa su disposizione della Prefettura di Agrigento. Verranno imbarcati sul traghetto di linea Paolo Veronese che giungerà in serata a Porto Empedocle. 30 migranti verranno trasferiti in Abruzzo, altrettanti in Morise e 50 invece verranno raggiunti dall'ordine di lasciare l'Italia entro cinque giorni. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di mafia e appalti, ci spostiamo nella Trapanese con la DIA che ha effettuato un maxi sequestro da ben 800 mila euro a un imprenditore. I dettagli nel servizio. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, nei confronti di un imprenditore di vita nel Belice, attivo nel settore dei lavori edili e della produzione e commercializzazione di calcestruzzo. Il sequestro ha un valore di circa 800 mila euro. L'attività fa seguito ad un precedente provvedimento del valore di oltre 12 milioni di euro eseguito nei confronti dello stesso imprenditore disposto dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore della DIA. L'imprenditore avrebbe ottenuto sia le risorse finanziarie per avviare e alimentare le proprie aziende, sia la copertura mafiosa per espandersi sul mercato, imponendosi negli affari legati alla realizzazione delle grandi opere pubbliche a danno delle imprese concorrenti. I nuovi accertamenti eseguiti dagli investigatori della DIA, anche mediante la mappatura geografica e l'impiego di un software che permette di sovrapporre le immagini satellitari con i dati catastali, hanno consentito di rilevare un complesso residenziale abusivo, composto da circa 300 metri quadrati coperti e un'area con piscina di circa 60 metri quadrati, costruito nel comune di Salemi, il luogo del quale risulta censito un magazzino di appena 38 metri quadrati, una quota di terreno a Calatafimi-Segesta e due ville in corso di costruzione a Paceco. I casi di abusivismo edilizio sono stati inoltre segnalati alla procura di Marsala. Controllo del territorio invece da parte dei carabinieri di Trapani e sono quattro le persone denunciate. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Trapani nel fine settimana appena trascorso hanno eseguito una serie di servizi di controllo del territorio unitamente ai colleghi della compagnia di intervento operativo del XII Regimento Sicilia, volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti al rispetto del codice della strada. All'esito del servizio tre persone di 20, 32 e 40 anni sono state deferite in quanto sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli con un tasso alcolemico superiore al consentito, mentre un soggetto con precedenti di polizia che viaggiava senza il casco protettivo sul ciclomotore a lui intestato non si è fermato all'alt dei militari che lo hanno bloccato poco dopo rinvenendo a seguito di una perquisizione personale e veicolare 7 grammi di hashish suddivisi in 6 dosi e la somma contante di 80 euro verosimilmente provento dell'attività illecita. Il 22enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con il conseguente sequestro della sostanza e dei soldi. Nell'ambito del medesimo contesto operativo sono stati segnalati alla prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti cinque soggetti in possesso di 13 grammi di marijuana, una siringa contenente tracce di eroina, una sigaretta contenente una mistura di tabacco e hashish, il tutto posto sotto sequestro. Un 23enne disoccupato di Castel Termini nell'Agrigentino è stato allontanato dalla casa familiare a causa dei continui maltrattamenti ai danni del padre pensionato e della sorella studentessa. Per il giovane il GIP del Tribunale di Agrigento ha disposto anche il divieto di avvicinamento alle persone offese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 23enne avrebbe a più riprese picchiato il genitore e la sorella i quali esasperati si erano rivolti proprio ai militari dell'arma chiedendo aiuto. Cambiamo ancora argomento, adesso parliamo di un altro drammatico incidente stradale avvenuto in Sicilia, stavolta lungo la statale 117 bis, per la precisione vicino lo svincolo di piazza Armerina Nord. La vittima è una 65enne il quale, secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora ad accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo poi la corsa contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma purtroppo per il 65enne non c'è stato nulla da fare, l'uomo infatti è morto sul corpo. E con questa notizia ci fermiamo, per il momento è tutto, ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia 24. A dopo.